L'arrivo nelle prossime ore in Puglia di oltre 92.000 dosi di vaccino Pfizer darà un'accelerata alla campagna vaccinale. Per questo in una circolare il capo del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Montanaro, ha inviato ad Asle Farmacie appunto una circolare in cui chiede di potenziare l'offerta vaccinale. Ancora Alba Di Palo. Un carico di vaccini Pfizer è in arrivo in Puglia e le Asle dovranno riorganizzarsi per garantire rispetto delle scadenze previste dal piano vaccinale e dare così un'accelerata alla campagna di immunizzazione contro il coronavirus. E' quanto chiede il capo del Dipartimento Salute della Regione Puglia Vito Montanaro in una circolare indirizzata ai direttori generali delle Asle pugliesi, ai direttori sanitari e ai direttori delle farmacie e sedi di stoccaggio delle dosi. L'obiettivo è potenziare in modo sostanziale, si legge nel documento, l'offerta vaccinale in tutta la Regione, a cui sono state destinate altre 92.430 dosi di vaccini Pfizer. L'accelerazione dell'esecuzione del piano vaccinale, spiega Montanaro, è possibile grazie alla disponibilità di vaccini da somministrare. Con la nuova dotazione in arrivo nelle prossime ore da Roma, abbiamo potuto incrementare l'offerta vaccinale e prevedere il completamento delle prime dosi per gli over 80 entro il 12 aprile, proseguendo parallelamente con la somministrazione delle seconde dosi come da programma. In particolare, è scritto nella circolare, la somministrazione delle dosi di vaccino dovrà essere completata entro il 30 aprile su chi ha un'età compresa tra i 70 e i 79 anni e dentro il 15 maggio su chi ha tra i 60 e i 69 anni. I direttori generali delle Asle e degli enti del sistema sanitario regionale dovranno assicurare lo standard minimo di 18 vaccinazioni l'ora per ciascuna postazione vaccinale, l'operatività dei punti vaccinali di popolazione di 12 ore al giorno, festivi compresi, la rimodulazione della programmazione relativa alle somministrazioni e la disponibilità delle diverse tipologie del vaccino in ogni punto vaccinale per poter consentire la vaccinazione di tutti coloro previsti nel punto stesso, indipendentemente dalle loro condizioni di rischio. In settimana dovrà essere completata non soltanto l'offerta vaccinale degli ultraottantenni, dei caregiver e dei familiari conviventi provvedendo all'organizzazione di sedute dedicate alla vaccinazione per i soggetti con disabilità grave e estremamente vulnerabili e per i loro familiari conviventi, ma dovranno anche essere vaccinati componenti del personale scolastico universitario garantendo l'operatività dei medici di assistenza primaria che hanno deciso di vaccinare nei propri studi o a domicilio.